Grazie a tutti, buona giornata. Grazie a Max Pessali, vogliamo fare però un'ultima domanda prima che esca. Ci hai regalato delle bellissime emozioni con la tua musica e noi ti vogliamo chiedere tu che cosa hai provato in questa giornata ad essere qui in piazza con tutte queste persone? Ho capito che ci sono persone che hanno entusiasmo, che ci sono persone che si uniscono in questo momento particolarmente difficile e ho capito che se c'è questo entusiasmo, questa voglia, questa unione attorno alla stessa bandiera, allo stesso pubblico, alla stessa gente, insomma, è tutto meno peggio di quello che uno può immaginare. Grazie di essere venuti. Grazie ancora a Max Pessali. Un altro applauso. Loro si definiscono un mosaico di razze, origini e culture diverse, un incrocio multietnico che nasce a Roma, ma ha girato tutto il mondo. Il collante naturalmente è la musica. Avete capito di chi stiamo parlando? È l'orchestra di Piazza Vittorio. Grazie. 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 Grazie.